Firmata la deroga al patto di stabilità 2012, ecco sbloccati ben 900 milioni di euro tra spese e investimenti. A firmare l'intesa con la regione Sicilia e il ministro all'economia Vittorio Grilli. Per l'assessore regionale all'economia Gaetano Armao si tratta di un ottimo risultato che viene fuori, dice, da un negoziato serrato col ministero dell'economia, che alla fine però ha riconosciuto le ragioni della Sicilia. E non è tutto, sempre Armao evidenzia che si preannuncia un ulteriore sblocco di somme dovute alla regione per il comparto sanitario, pari a circa 200 milioni. Provvedimenti continuano all'assessore che contribuiranno a consolidare, a riprendere il percorso di risanamento e riduzione della spesa che la regione siciliana ha portato avanti. Su questo solco, dopo la delibera sulla revisione della spesa, è stata emanata e inviata a tutti gli enti e società partecipate, la direttiva che rende operativa la revisione. Siamo la prima regione d'Italia, conclude Armao, a dare piena attuazione alla spending review, contenendo i costi. Secondo Alessandro Arrico, assessore regionale al territorio ambiente e vice coordinatore vicario di Fli in Sicilia, il ministro Grilli e il presidente Monti hanno dimostrato grande sensibilità, accordando l'aderoga al patto di stabilità per la quale dice avevo personalmente lanciato un appello. Al termine di una settimana carica di emergenze ambientali in Sicilia. Arrico aggiunge poi, si potranno così affrontare adesso le gravi emergenze della Sicilia, dei lavoratori forestali antincendio che a questo punto possono aumentare le giornate lavorative fino a 151. Inoltre spero che il ministro Grilli possa estendere l'aderoga al patto di stabilità anche i piccoli comuni siciliani che soffrono una tremenda situazione finanziaria e non riescono ad offrire servizi adeguati ai cittadini. E intanto il segretario regionale del PD, Giuseppe Lupo, commentando la notizia dell'aderoga al patto di stabilità, dichiara, finalmente una boccata d'ossigeno per i lavoratori e le imprese, che grazie allo sblocco dei 900 milioni con cui la regione farà fronte agli impegni presi, potranno tirare un sospiro di sollievo. Per Lupo non sbloccare tali risorse sarebbe stata l'ennesima tegola sul futuro delle imprese, già nella morsa di una crisi senza precedenti, e avrebbe determinato il tracollo economico della nostra regione. Ora, conclude Lupo, il governo Lombardo non cerchi più scuse e sblocchi i finanziamenti per lo sviluppo e il lavoro.